In questo video ragazzi andremo a fare uno scherzo a R.B.Lory inviandogli ben... Eeeh, che quale scherzo? No, niente, nessuno scherzo, stavo soltanto parlando con R.B.Fabie. Ah, sarebbe meglio. Oh, 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 e faccio gare! Ok ragazzi, ho il telefono. Possiamo andare a fare lo scherzo. Allora ragazzi, adesso iniziamo a scriverli ed arrivare a 5.000 messaggi su Whatsapp. Ciao! 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 R.B.Fabie! 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 Hai visto il mio telefono? No! 700 euro di telefono! Neanche io so dov'è, Lorin! R.B.Fabie! 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 Vabbè ragazzi, lasciatelo stare! R.B.Fabie! Vabbè! Vabbè ragazzi! Allora adesso ragazzi andiamo a vedere tutti i messaggi Grazie per la visione